filma filma filmo dov'è il macete così mi ricordo che l'abbiamo lasciato lì e poi qua è pericoloso almeno lì lo vedi è quello il problema vi piace giocare ai tempi andavate giù a giocare con le locertole e tutto quanto adesso cazzo vi divertite così eh severino severi guarda che hanno bisogno giù in fondo in fondo in fondo in fondo c'è una montagna di roba tacca la qua il gancio di traino del mercedes che ce la tira su lui ha detto mercedes qua la mmg qua ce la tira su lui ma poi come fa a tirarlo su tutta sta roba che adesso il brino dentro ne largano ma fa perno sugli alberi ma il cavo non la cinca come fai sennò tirarlo su adesso arriva lì arriva sa già tutto ma non puoi mettere dai 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 su come fa a tirarlo su adesso vi fa vedere oh guarda che lui vive su quel quad lì ormai è certo guarda fai giù col quad lì fagli vedere paolo fagli vedere insegnagli attacca il cavo e tira e vai indietro con il quad tanto fa perno sul palo ma va lascialo giocare gio-ca-re 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 fai perno con l'altro no no se tira torto va contro le piazze mettiti dritto no se tira torto va contro le piazze mettiti dritto ma va va adesso schifo se tira torto va contro le piazze vai mettiti dritto vai 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 allora quando tiri va sul torta va contro le piazze metti dritto qua eh è l'unico di tutta la roba ma va ma va ma va ma vuoi togliere l'ingusto scusami eh dai ho fatto forte eh ascolta ora le piazze in 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 A partire! Si prese si veda qualcuno! no vai 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 dietro attacchi il gancio dai c'è il gancio e basta vado a passare dentro pensavo che non è giocato con l'aglio dai dai viva più sono due ruote se arriva lì ma lo tiriamo su al mare è già qua vedi vai 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 stai lì stai lì fermati vai vai fermati adesso è un indietro giù faolo vai a fare in culo hai visto che l'ha tirato su il geometro rinzi no dai geometro no che c'è giù un cespuglio se prende dentro quello dove vai di lì no 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 renzo no lascia giù di qua dai che ormai è già fatto ma di qua è già fatto prova di questa non ti preoccupare paolo vai 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 eh io non ho tagliato e te l'hai schiacciato Paolo, ti prendiamo noi, non ti preoccupare. Eh, sono inquinilari. Bello deciso, eh. Così se c'è sul Sergio ancora attaccato al secco, lì sono anche lui. Ma siamo usciti l'ottico, eh. Vai Paolo, intanto pensiamo a piantare. Sì, quel zambuco lì. Dove sei qui? È qua. È da fare... Sta finendo di tirare su l'ultima spazzatura lì. Voi non può venire via se hai visto una latina. Didi, ascoltami, è giusto. Oh, non te lo dice più il sindaco che ti fa a fare. E chi porta via questa roba adesso? Un stradino.